bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi siamo qui con l'ennesimo episodio della road to diamond sempre con psycho e bio li stiamo registrando tutti di seguito perché così almeno diciamo stiamo giocando quindi registriamo e niente adesso ci rivediamo quando saremo in partita ok ragazzi ho trovato la partita artificieri su caffè dostoevsky bio meno fai un buco lì con la desert eagle desert eagle un buchetto dove vedi che bei buchi che fa la desert ora attenzione il signor psico beh certo mi affaccio io e c'è la madonna guardate che che cattivo che va bene la prima campo ho salvato la vita bio grazie guarda dove era non me lo fa sbattare comunque è dietro di te lì guarda dove c'è ti ho salvato la vita malamente vedete ragazzi questo qua è uno spot per artificieri per controllare l'altra bomba in english no bio che merda che sei comunque ragazzi provate reflex cioè jäger con reflex e canna lunga che è veramente forte veramente forte sta diffondendo il cancro sto diffondendo il cancro sto diffondendo il giocinesico vabbè mi ha ascoltato la raga no comunque l'ho spiegato nello scorso video se volete usare la canna lunga che sensibilità dovete mettere no no raga cavella sono a terra mi ha ucciso ok va bene cavella? si ma spara tu due colpi di pistola cazzo oh comunque ragazzi iscrivetevi al canale di questi due signori lascio il loro link in descrizione nooo vabbè sono un frocio io eh sta plotato tutto a destra bella bacio bravo eh figa però muori eh da dove? da dove? da dove? da dove? ma io dove sto coprendo? dove cazzo è? ma dai ma non muoio non muoio no dio santo di dio vaffanculo bendetti in merda nel corridoio no l'ho presa si scambia bar questa foto e gli ricarica davanti pure no ragazzi però no vabbè non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere questa è la calazza no io non posso se ne fatti perchè facciano e dio se si li fa col food dove cazzo va? no no vabbè no vabbè no 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 basta mi compro il fuse dopo questo episodio no 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 che è un po' ecco psycho psico psico ti ho ucciso io voglio baggio mi sei passato da vado a cliccate ecco uccido psico ma fuck ai culo la oh addio guarda la trossa breve ma fa un fatto di faria ma un z 도 di troia lo stavo seguendo da mezz'ora daiiii oddio Ma cosa fai? Ma stiamo scherzando Cazzo sai come mi sei passato davanti Porca troia C'avevo il termite C'avevo la testa del termite davanti e tu mi passi Porca troia Aspetta baio Stiamo andando sopra Ok Ok bravo Ok bella chiamata Eh glielo stavo spottando Jäger Ok E' ancora lì? No Non so dove si è andato Mi sa che è andato Piano forte Ma io C'è ok in sala lettura Dai No Venga zio Non posso Bella Eh camera da dietro Guarda questo lo spawn Madonna Madonna Beh l'avranno cariato Ma che cazzo spara I riflessi peggio di baio Ma poi li trova tutti di spalle Questo Ma perché saltano in aria Quanto rumore E c'è che vera che si è camperata con il defiut Guardalo Ho chiuso tutto Si è buttato Non mi direi che lo seguo No No Non ci fai Ah le ho fatto Dove cazzo era Ah le ho fatto il giro Non l'avete capito Che le aveva bucato il muro Non ci posso credere Il riflesso di un mongoloid Io tipo mi immagino Camera Che ha messo il defuser Ah il mio tesoro Madonna Blackbeard mi spara dal finestrone Ragazzi Non dalla finestra di qua Raga Dal finestrone davanti a A lettura Ok Scusami Sono appesi anche qua Nell'altra bomba Uno sullo cernario Merda Ma che cazzo fai Mi sa che stanno plantando lì Raga Ma che cazzo fai Come ho fatto Ma perché mi spari Che cazzo dici Sì ragazzi ha plantato in bomba B Come ho plantato Sono sullo cernario Con lo consenziatore Che lo sparano come Ah no Il termite Mi sa che fa hotbridge No Sono appesi ragazzi Arriva poi io No ma questi come pushano No ma anzi uno dietro Eh vaffanculo Che cazzo devo fare Dio santo Ragazzi ma non potete stare Tutti fuori eh Mi butto Mamma mia Tutto Mi butto Mamma mia Tutto Mi butto Mi butto Mamma mia Tutto Buona Mi ha rotto il drone però Sono droppato Venitemi ad aiutare Dai che planto Eh li ha che indietro I li ha che indietro I li ha che indietro Buono No è buono L'ho curato Uno sei droppato Dai Oddio che handicappato Madonna Buona 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 Ok Sta tornando Al muro Wallbenga 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 Se è piaciuto Come sempre vi ricordo Di lasciare un mi piace Commentare Iscriversi al canale Passare dal canale Di Psycho e Bio Che vi lascio in descrizione E niente Ciao a tutti Oro 4 Signori Oro 4 Si sale